È stata un'iniziativa che è partita da studenti, che poi siamo stati appoggiati dalla preside che usiamo anche questa occasione per ringraziarla. Siamo stati sostenuti soprattutto dai nostri professori e quindi è stata un'iniziativa che ci ha colpito anche se non avevamo a che fare in prima persona con il dottore Bellizzi. È stata un'iniziativa che abbiamo cercato di portare avanti anche grazie ai nostri genitori che ci hanno sostenuto in ogni punto di vista. Ricordiamo che è nata da voi, quindi i genitori sono venuti dopo. Sono venuti dopo, però ci hanno sostenuto, ci hanno messo in contatto con il prefetto e con tutti quanti gli enti che ci hanno aiutato. Gennaro Bellizzi era una figura fondamentale per il basket, per lo sport in generale in Irpinia, quindi ricordarlo era doveroso. Tu lo hai mai conosciuto? Che cosa ti hanno detto di lui? Io personalmente non l'ho mai conosciuto, però mi sono state tramandate molte memorie e ricordi e soprattutto il fatto che lui si sia speso sia per la comunità di Avellino, in quanto anche ci hanno raccontato che lui era un professionista di un certo livello, ma anche per la comunità sportiva. Nel momento in cui ci è venuta questa idea abbiamo colto la palla al balzo per realizzare un progetto del genere. È una cosa che fa piacere, fa molto piacere anche il sostegno e l'intervento di tutti coloro che poi sono venuti a sapere di questa cosa e ci hanno aiutato a realizzarla perché non era una cosa scontata. Poi noi, la cosa interessante, non abbiamo mai approcciato a situazioni del genere e quindi è stato pure bello interfacciarsi con queste dinamiche. Tra l'altro, sua moglie è la vostra professoressa di religione, ricordiamo questo e ricordiamo anche l'appuntamento per l'intitolazione della palestra del Colletta a Gennaro Bellini. Sì, l'appuntamento è il 23 giugno alle ore 18 e niente, ci vediamo lì. Presso il liceo classico Pietro Colletta.